Al Salone di Risparmio IPB organizza una conferenza sulla Product Governance, che è uno dei temi qualificanti a MIFI 2. Di cosa si è parlato? Dunque, si è parlato e si parlerà, a dire la verità, della nuova relazione che deve ristaurarsi tra produttori e distributori, nell'interesse del cliente. Perché con la MIFI 2 il produttore dovrà fare un targeting del cliente, passarlo al distributore e il distributore dovrà verificare se va bene per la sua clientela. E poi c'è il flusso di ritorno, cioè il monitoraggio di come sono andati gli investimenti, di come sono andati i bisogni della clientela per mettere a punto sempre meglio il prodotto. Questo potrà cambiare un po' gli equilibri tra le fabbriche prodotto e chi si occupa di distribuzione, i pesi specifici o no? No, perché sono due lavori diversi. Il distributore è a contatto con la clientela e aiuterà il produttore a fare prodotti ancora migliori. Il produttore ovviamente è a conoscenza dell'andamento dei mercati, di tutte le opportunità, che è un lavoro che non è del distributore. Quindi c'è posto per tutti e due l'importante che lavorino insieme e naturalmente nell'interesse del cliente finale. Come IPB ricordate spesso che c'è ancora un'ampia fetta di popolazione private che però viene eseguita dalle banche tradizionali o dalle strutture tradizionali. Cosa si può fare per offrire servizi ad hoc? Cosa devono fare gli operatori? Gli operatori devono riconoscere che un modello di servizio adatto per una clientela che ha patrimoni complessivi sopra i 2 milioni dà delle garanzie di ricavi interessanti per il distributore ma anche il modo di servire meglio i bisogni della clientela. Noi quello che stiamo cercando di fare è di diffondere questa cultura del private banking, le caratteristiche distintive del private banking e ovviamente bisogna anche dotarsi di private banker in grado di essere, di dare del valore aggiunto alla clientela. E questo vuol dire formazione, formazione, formazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.